Riccardo Sbertoli, una bella vittoria per Milano, la prima in casa, inizia nel migliore di modi il campionato dell'Allianz Power Volley Milano qui all'Allianz Cloud, insomma un successo pieno contro una diretta concorrente come Cisterna di Latina. No, siamo felicissimi, siamo felicissimi ed è giusto che in queste situazioni noi manifestiamo la nostra felicità perché abbiamo fatto qualcosa di complicato, il primo set siamo stati bravi ma il bello è venuto nel secondo che siamo andati sotto tanto e con la forza della squadra, del gruppo, rientrare, comunque in partita non era così scontato e soprattutto alla prima di campionato. Abbiamo dimostrato di essere ancora una volta una grande squadra, un grande gruppo che le squadre non possano mai darci per sconfitti. E quella forse è il secondo set, la chiave di volta del match, hai detto bene, abbiamo vinto di gruppo, abbiamo vinto di squadra anche con i cambi, con delle situazioni di gioco probabilmente provate anche in settimana, è cambiata proprio il gioco di Milano, non come gli scorsi anni in cui ovviamente si dipendeva, un giocatore importante come di Mir, adesso c'è una distribuzione del gioco che passa dalle tue mani molto più diciamo coerente con chi in questo momento è in campo? Ma in realtà guarda io dipendo un po' perché ci saranno delle partite in cui ci sarà qualcuno veramente on fire come si dice e quindi sarà giusto calcare l'entusiasmo di quei giocatori, sono partite come Avibo in cui tutti esprimono un ottimo livello quindi è bene che attacchino tutti, il mio ruolo diciamo è quello di capire anche un po' queste situazioni e quando qualcuno magari è un po' meno in partita cercare di ritirarlo in partita. Quest'anno sicuramente la squadra è cambiata e abbiamo delle dinamiche un po' diverse però secondo me dobbiamo essere veramente contenti di questo inizio perché ha tre punti contro un'avversaria diretta come la Forte, come la Tina e comunque abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra che non molla mai, questo per la prima di campionato ripeto non è così scontato. So che è solo la prima però inizia un mese ad ottobre pieno di partite con Milano che era subito sabato contro Monza, insomma tante sfide una dietro l'altra e tutte con la medesima importanza dove ogni punto, ogni palla farà la differenza. Certo, aggiungerei finalmente, finalmente inizia un mese pieno perché abbiamo atteso tanto questo momento di riniziare a giocare che è quello per cui noi viviamo in questo momento. Quindi sì, inizierà un mese pieno ed è bene arrivarci con questo entusiasmo, con questi tre punti e consapevoli che anche nei momenti di difficoltà la squadra c'è, la squadra risponde e che non molleremo mai.